Del vecchio fa delle affermazioni totalmente infondate, crea allarmismo tra i cittadini e questo non va bene. Oggi io intervengo a chiare lettere dicendo apertamente e chiaramente, siccome mi reputo una persona seria, che è un'impiantistica di quel tipo, non ci sarà. Quindi cittadini di bell'occhi non preoccupatevi, non ci sono bisogno di fare barricate. Immagino che la prossima conferenza che organizzerà sarà per dire facciamo le barricate contro il sindaco che sta facendo un accordo con Kim, il capo della Corea del Nord, per fare una centrale nucleare a Fano. Basta con queste chiacchiere. Qui si fanno cose serie nell'interesse della nostra città. Lo abbiamo dimostrato portando 142 milioni di investimenti su Fano. Si sta discutendo del nulla in questo momento, dicono con tono anche stizzito i partecipanti alla conferenza stampa, per il clamore dato a questa vicenda, con le dichiarazioni al vetriolo di ieri del consigliere del Vecchio a riguardo di una eventuale costruzione di un digestore anaerobico nella zona industriale di Bellocchi e di una ipotetica svendita della S.P.A. a vantaggio dei privati. È ovvio, dicono dai vertici ASET, che trattandosi di un complesso industriale, chiunque analizzi o faccia una valutazione iniziale, la prima area che prende in considerazione su dove realizzarla è proprio quella industriale di un territorio, sempre che però ci siano le giuste condizioni e né Falcineto e né Bellocchi però sembrano averne. Ma le variabili in gioco sono talmente tante in questa fase ed ancora da valutare che stiamo parlando di qualcosa che non ha nemmeno visto il suo concepimento. ASET ed il Comune di Fano di certo però vogliono esserci nella partita perché starne fuori, dicono, costerebbe troppo ai cittadini fanesi ed un buon amministratore fa gli interessi dei cittadini. La tecnologia che ci ha più convinto si svolge, viene realizzata completamente dentro Coppannoni con un trattamento spinto dell'aria che viene aspirata e passa attraverso dei filtri per cui dal punto di vista di origino chiaramente e dal punto di vista ambientale garantisce totalmente l'aria. Quindi tutto al chiuso, nessuna dispersione di odori, di cose, è grande vantaggio per l'ambiente e per i nostri agricoltori. Dal mio punto di vista è così. Allo stato attuale noi stiamo portando i nostri rifiuti di impianti in Emilia Romagna e in Veneto con costi rilevanti. Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento di circa 15-20 euro a tonnellata sia per l'organico che per il verde. In generale c'è questo trend perché la raccolta differenziata in tutta Italia sta aumentando e l'impiantistica è piuttosto carente. Nel caso specifico nella provincia di Pesolo e nella provincia di Ancona sono dotati di impianti di trattamento dell'organico.